Arrestati dalla polizia a Perugia due romeni, entrambi con precedenti, accusati di tentativo o distorsione aggravata per aver picchiato e minacciato di morte due congi nigeriani affinché lasciassero l'appartamento dove abitavano in affitto da un anno con due figli piccoli a San Sisto in base a un regolare canone di locazione stipulato con la proprietaria di casa, una romena. Quest'ultima ha riferito alla polizia volendo rientrare in possesso dell'immobile a un che avrebbe preteso che la famiglia nigeriana lo lasciasse su due piedi. Visto che questo non era possibile, il compagno della proprietaria, anche egli romeno e un suo connazionale avrebbero quasi ogni giorno aggredito verbalmente due congi minacciandoli di conseguenze gravi se non avessero lasciato immediatamente l'appartamento. Ieri la donna nigeriana è stata anche percorsa e spintonata dai due romeni.